Ha davvero dell'incredibile ciò che è successo a Villafranca Sicula, dove i due candidati a sindaco del piccolo comune hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze. Sia il sindaco uscente Domenico Balsamo, sia il suo sfidante Gaetano Bruccoleri hanno infatti totalizzato 481 voti ciascuno. Si tratta di un comune dove si vota con il sistema maggioritario. La verifica di tutte le schede votate è stata effettuate ed ha confermato l'assoluta parità dei voti ottenuti dai due candidati. Si andrà dunque al ballottaggio domenica 26 giugno. In caso di parità anche in occasione del turno di ballottaggio verrebbe eletto sindaco il candidato più anziano, e cioè il sindaco uscente Domenico Balsamo, 64 anni, visto che lo sfidante Gaetano Bruccoleri di anni ne ha 55. Lo prevede il comma 4 della legge regionale 15 settembre 1997 numero 35, che recita testualmente, in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Villa Franca Sicula, dunque, tornerà al voto tra due settimane. Ma andiamo ai risultati negli altri comuni della provincia di Agrigento, dove ieri si è votato per le elezioni amministrative. Stefano Castellino ha stravinto a Palma di Montechiaro e con il 79,43% è stato riconfermato alla guida del comune con un netto risultato. Staccati gli altri due candidati, Morgana e Manganello. Una vittoria plebiscitaria, ha commentato il primo cittadino. Siamo orgogliosi e onorati dell'affetto che la città ha voluto manifestarci. Dedico la vittoria al popolo di Palma di Montechiaro, siamo una grande comunità, ha concluso Castellino. Riconferma anche ad Aragona, dove il primo cittadino uscente, Peppe Pendolino, con il 64,12%, ha avuto la meglio sullo sfidante Dino Buscemi, che si è fermato al 35,88%. Anche Pendolino ha voluto ringraziare tutta la comunità di Aragona per la sua riconferma. È stata una sorpresa avere una percentuale così alta. Non me l'aspettavo, ha commentato il sindaco, che ha poi ringraziato gli avversari ed il candidato Buscemi, perché, ha detto per la prima volta, si è portata avanti ad Aragona una campagna elettorale dai toni pacati e con un confronto moderato. A Campobello di Licata il nuovo sindaco è Antonio Pitruzzella, candidato del Movimento 5 Stelle Partito Democratico. Il neo primo cittadino, con il 25,57%, ha avuto la meglio sui candidati Vito Terrana, Michele Termini, Andrea Mariani ed Angelo Lagreca, dopo una sfida infuocata, decisa, voto su voto. A Comitini il nuovo sindaco è Luigi Nigrelli. Il neo primo cittadino ha ottenuto il 51,83%. Lo sfidante, Gerlando Cuffaro, si è fermato al 48,17%. Filippo Mannino è infine il nuovo sindaco di Lampedusa e Linosa. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha sconfitto il sindaco uscente Totò Martello. Mannino, dopo averci provato nella passata tornata elettorale venendo sconfitto proprio da Martello, è dunque riuscito stavolta a conquistare la fascia tricolore. La gente ha scelto di cambiare le prime parole del neo sindaco di Lampedusa.